Ed è lunedì, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, ben ritrovati, Good Morning Milano 7.09, lunedì 16 settembre 2024, anche metà settembre se n'è già andato, avete presente cosa vuol dire? Cioè siamo già veramente in discesa velocissima verso il Natale, c'è poco da fare, c'è dietro l'angolo oramai, eh sì. Poi questo weekend vi ho sentito tutti quanti lamentarvi per il freddo, cioè praticamente giovedì eravamo qua a lamentarci per il caldo, domenica tutti qua a lamentarvi per il freddo, non siamo mai contenti comunque, però effettivamente è stata una tre giorni da metà settimana oggi che in realtà anche stamattina c'era frescolino. Ho visto Beatrice venire in studio con il piumino, lo smanicato piumino, cioè siamo già a quei livelli, i monbut di venerdì, no? Vabbè, staremo a vedere poi con le previsioni del tempo e tutto, ormai dopo le guardiamo un po' insieme, che cosa ci aspetta la settimana, che cosa ci aspetta il periodo, io fossi in voi non fare ancora il cambio armadio, attenzione perché tanto qua va a finire che veramente poi fra tre settimane ci ritroviamo ancora in calzoncini e canotta a boccheggiare, quindi fossi in voi aspetterei un pochino a fare il cambio armadio. Ma se fossi in voi non aspetterai invece a mandarci un whatsapp al 3317853555, nostro numero di whatsapp come sempre qui pronto, caldo, funzionante soprattutto, che riceve tutti i messaggi che volete per raccontarci un po' magari appunto come è andato il weekend. Io pensate ho toccato il mare questo weekend, ho messo, ho pucciato i piedi nel mar Adriatico, in quella di Martinsicuro, zona Abruzzo, e sono andato anche a vedere come si fa la vendemmia, pensate, un astemio che è andato a vedere la vendemmia. Però poi ne parliamo dopo, parliamo con la musica e poi ancora qui, Good Morning Milano. Amore no, remix 2024, al grado Celentano pensate, come torna la musica di una volta, poi dopo non dobbiamo dare ragione ai boomer però così, quando diciamo eh però la musica di una volta ma sta tornando tutta, cioè adesso abbiamo in classifica Celentano con un remix di una canzone degli anni 70, Lavanoni con una canzone che era intorno a metà degli anni 90, ma comunque era Lavanoni e che adesso fanno un remix, hanno messo ancora anche lei. Insomma, poi dopo dobbiamo dare per forza ragione ai boomer, eh io ve lo dico. Comunque, 3317853555 è il nostro numero di Whatsapp, arrivano i primi Whatsapp, buongiorno a tutti e buongiorno a Fabio. Pensa a come la questione tempo influisce per chi si sposa tra undici giorni e dà un vestito da sposa piuttosto leggero. Un saluto da quella di Bergamo. Beh, effettivamente non deve essere roba da poco, eh. Io anche mi sono sposato intorno a ottobre e avevo questo terrore. Avevo detto, anzi avevo detto a tutti quanti che se avesse piovuto rimandavo di una settimana tutta. Cioè avevo detto, no, rimando ma basta, non lo faccio più. Avevo detto così, ma non per il vestito, è per la festa più che altro. Mi dispiaceva, mi è vero, il matrimonio ancora si faceva chiuso. Ma la festa si faceva l'aperto nel cortile così, cioè no, ho detto, io mi sposavo solo per fare la festa, cioè praticamente. No, non è vero, saluto anzi a chi mi ascolta. Comunque, beh, non deve essere facile, infatti in questione non da poco, vestito leggero. Beh, ma posso dire, effettivamente, 11 giorni vuol dire che stiamo parlando del 27 più o meno settembre, no, giusto? Quindi uno effettivamente, se pensa di sposarsi in quel periodo, magari non è che va a prendersi il vestito pesante. Cioè, a fine settembre, visto il suo riscaldamento globale, visto tutto, magari fa ancora caldo. Ma secondo me, così, adesso non vorrei portare sfiga, però secondo me non ci sarà bisogno di appesantire il vestito. Cioè, facciamo corna, 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 scelta, corna, 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 facciamo tutto quello. Ma l'occhio, pezzoglio, l'occhio, facciamo tutto, però secondo me non ci sarà bisogno. Adesso qua, allora, c'è che da dire, non è che facciamo così freddo, cioè ci saranno, quanti gradi ci sono adesso? 15 gradi. Nel mondo 15 gradi non è freddo, ok? A Stoccolma moltamente c'è molto meno adesso, a questo punto, ok? Ecco. Però noi siamo stati abituati, bene o male, nel senso che l'altro ieri praticamente c'erano 30 gradi. Cioè, noi siamo passati da 32-33 gradi di 15 giorni fa, no, sto largo, a 15 gradi di stamattina. E capisco quindi che, insomma, ieri mattina, però adesso è un momento personale, così continuo con i momenti personali questa mattina, ieri mattina io, alle 6 e mezza più o meno, sì, mi sveglio presto anche durante il weekend, ormai per colpa vostra, che tutte le mattine sono qua a dovervi raccontare, leggere giornali e così, ormai anche nel weekend, quando va bene, mi sveglio alle 7 e mezza, cioè, quindi ormai, va bene. E quindi, 6 e mezza, ero lì sulla spiaggia e camminavo, bel frescolino, bel frescolino, c'è stato tipo 10 gradi forse c'erano anche, meno dei 15 di adesso, ma ho messo i piedi in acqua. Bollente. Perché? Stando fuori, che erai freddo, se metti i piedi in acqua, cioè la sabbia era gelida, dove l'acqua toccava la sabbia era calda. Quindi bisognerebbe fare come quel signore che ho visto, mentre poi io mangiavo la brioche tranquillamente al bar, guardando l'alba, ma quel signore che è arrivato, dopo aver fatto una bella corsetta, evidentemente, perché era bello sudato, vestito da podista, che ha mollato lì le scarpette, ha mollato lì la maglietta sul bagnasciuga, si è buttato in acqua, si è fatto una bella nuotata, e poi cosa ha fatto? Si è rimesso la sua bella magliettina e ha continuato a fare la sua corsetta. Vedi, dovrebbe fare così, è una roba rigenerante, soprattutto lui avrà avuto meno freddo di me, molto probabilmente, perché io devo dire che effettivamente lì così comunque, a mangiarmi la mia bella briochina, Ina, mi ha dato una roba che sembrava un mattone, mi ha dato, buonissima, mi dà una briochina, mi ha dato lì 4,5 kg di calorie, però, insomma, a faccia la freschina, invece il signore lì è arrivato, mi ha la maglietta così. Anche voi fate la corsetta la mattina? La fate con Cristal Radio nelle orecchie? La fate con i OneRepublic. OneRepublic Sunday, alle 7.21 minuti, oggi è sempre il lunedì 16 settembre, io ve lo ripeto, secondo me qui succede che qualcuno si sveglia, no? Poi comincia a ascoltare così, poi magari mentre parlo, no? Gli faccio un po' di nanna, nanna si addormenta, e magari si risveglia, dice, che giorno è oggi? È il 16 settembre, quindi io ve lo ricordo sempre, così che man mano che nella mattinata andiamo avanti insieme, lo facciamo, coscienti del fatto di dove stiamo, cosa facciamo e dove andiamo. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5-5, il nostro numero di Whatsapp, a cui anche Alberto ci ha scritto, buongiorno Fabio, buongiorno Alberto, buongiorno redazio, buongiorno redazione, scusate, mi è entrato qualcosa in gola mentre parlavo, sto per morire credo, comunque ho dimenticato l'acqua di là, c'è qualcosa che è volato, mi è volato in bocca, giuro, un moscerino, una zanzara credo, spero non mi buchi, non mi punga dentro. Quindi buongiorno Fabio, buongiorno Male, ma buongiorno ragazze, buongiorno redazione, buongiorno Bea, buongiorno Cristallini, ecco qui non vi do buongiorno a tutti uno per uno, perché non è che posso dare buongiorno a Luisa, buongiorno a Maria, buongiorno a Mario, Giovanni, Franco, Artemio, secondo me c'è un Artemio che ci sta ascoltando, comunque questa mattina, il caro Alberto dice, questa mattina tanto sonno dopo la bella serata di ieri a Cesano, e c'è la festa di Cesano Boscone, abbiamo parlato che è venerdì, e quindi Alberto è andato alla festa di Cesano Boscone, perché ieri sera c'erano i Dia Straits Over Gold Tribute Band, quindi la cover band dei Dia Straits, chissà quanto avete cantato, ballato, vi siete dimenati, quindi chissà che ora avete fatto, e stamattina il lunedì inizia, con difficoltà ma pieni di gioia e felicità per quello fatto il giorno prima, quindi insomma è quella difficoltà che dice, beh però insomma ne valsa la pena, e quindi grazie, grazie e buongiorno anche a te Alberto, e buongiorno a tutti coloro che appunto vanno in questi giorni alla festa di Cesano, ci sono anche tutti i giorni, vi lo ricordo, ci sono attività qui alla festa di Cesano, questa sera ad esempio ci sono degli incontri molto interessanti, anche dei spettacoli, questa sera ci sarà ad esempio un incontro che si chiama Seguimi, da oggi ti chiamerò Pietro, autore-regista Pietro Sarobbi, che farà vedere appunto farà uno spettacolo, poi ci sarà un momento diciamo molto molto interessante, sulla casa di accoglienza per le donne maltrattate, si potrà scoprire meglio che cos'è, si potrà parlarne meglio, tutto questo appunto questa sera alle 18 sempre a Cesano Boscone, comunque trovate tutto quanto sul sito, ricordate che c'è la festa di Cesano Boscone, trovate tutto il sito e tutto il programma che è veramente veramente pieno di appuntamenti, per tutti poi, veramente per tutti, quello più impegnato, quello meno impegnato, quello comico, quello per i bambini, quello musicale, quello artistico, tutto quello che volete lo trovate appunto alla festa patronale di Cesano Boscone. Ne parliamo dopo meglio, ma, attenzione, pensavamo di essercene liberati, pensavamo che finalmente avevamo trovato una quadra sul tema, e invece è tornato ancora a fare da padrona che cosa? Lo stadio di San Siro. Ebbene sì, il tema stadio di San Siro, siamo ancora qui, ma soprattutto, pensate, dopo ormai quattro anni, fra un po' che ne stiamo parlando, siamo allo stesso punto di partenza di quattro anni fa, identico uguale, perché cosa è successo? Le squadre, almeno questo era quello che i giornali dicevano venerdì, le squadre dicono no al progetto di ristrutturazione di San Siro, non ci interessa, WeBuild, grazie per il lavoro fatto gratis, ma non ci interessa, tenitelo pure lì il progetto di ristrutturazione, noi, anzi, noi vogliamo ancora il progetto di fare lo stadio di fianco all'attuale San Siro, quindi il primissimo progetto, quello su cui si è fatto il dibattito pubblico, su cui si è usciti con mille critiche, su cui si sa che ci sono dei vincoli anche sullo stadio, quindi non si può abbattere, beh, quello lì, ecco, quel progetto lì, sta di fatto che appunto Repubblica ha scritto un articolo, dove dice appunto questa cosa, e il giorno, tra lo stesso giorno alla sera, Corriere della Sera, fa un articolo dove dice, che in poche parole, il Milan dice, no, ma io non ho detto proprio questo, infatti, il stadio di Milan e Inter, la frenata del Milan sul Meazza bis, Scarioni dice, priorità ancora, San Donato, il piano We Builder è in altezza, ma noi non vogliamo più quel piano là, di fare lo stadio di fianco a San Siro, insomma non si capisce niente, dopo ce li leggiamo bene questi articoli, non si capisce nulla, il Consiglio Comunale, Tukur, quindi sia a destra che a sinistra, maggioranza della posizione, si sta compattando, per chiedere a Sala, di fermare tutto questo delirio, Sala non sa cosa fare, perché giustamente lo prendono, abbastonata a destra a sinistra, e questa volta posso dire, non saprei neanche io cosa fare nella sua posizione in questo momento, anche se effettivamente io non faccio il sindaco, quindi forse mi auguro che lui sappia meglio di me cosa fare in questo momento, sta di fatto che appunto, pensavamo di esserci liberati di tutto questo, e invece siamo anche a mo' lì, fermi lì al palo. Adesso un po' di musica, un po' di pubblicità, e poi torniamo sempre qui, a pochissimi minuti siamo di nuovo qua, e poi andiamo meglio nelle questioni appunto di informazione locale, sempre qui a Good Morning Milano, su Crystal Radio, tutte le mattine, dalle 7 alle 9. Rino Gaetano con Gianna, e questo ci porta nella seconda mezz'ora di trasmissione, sono già le 7.34 minuti, mi raccomando, ormai i tempi li sapete, quindi so che c'è gente che vive la sua mattina, e si detta i tempi, grazie alla nostra trasmissione, quindi sanno che, ah, sapete la pubblicità, io sono in ritardo, no, devo uscire prima, non preoccupatevi, siamo sempre qui, tranquilli, a darvi il tempo della mattina, ok, così che, ah no, posso ascoltare ancora due canzoni, perché poi dopo devo arrivare alla metro, prima che inizi il telegiornale, questa cosa qua, so che molti di voi utilizzano la radio in questa modalità, quindi sono proprio contento di essere e far parte, anzi vi ringrazio sempre di farmi entrare nella vostra routine mattutina, quindi torniamo sul tema stadio, allora io non avrei mai voluto tornare, ma dobbiamo tornarci, Repubblica cosa dice? Allora, Repubblica Milano scrive questo articolo, dice San Siro, il nuovo stadio non va al voto, l'alt dei partiti a sala, anzi, i partiti chiedono spieghi in aula, dissensi trasversali sull'accordo con i club, per la realizzazione di un nuovo impianto accanto al Meazza, questo pezzo non è un articolo del 2022, del 2021, no, è un articolo datato, 15 settembre 2024, alle 6 del mattino è uscito, quindi già ieri mattina esce questo articolo, Miriam Romano in questo articolo, ci spiega come, dopo questa uscita dei club, almeno disembrerebbe, perché proprio, nemmeno leggere un altro articolo, non si capisce quindi questa uscita da Chiardini, che boccia fondamentalmente il progetto di ristrutturazione di San Siro, i club siano tornati sull'idea di abbattere San Siro e costruire un nuovo stadio di fianco a San Siro, ok, proprio nel pezzo, in quello che adesso viene chiamato giardino, parco dei capitani, o giardino dei capitani, comunque, i dissensi appunto arrivano trasversali da ogni parte, l'Inter, pensate, parte dalla delibera del 2023, che dice che la proposta di costruire un nuovo stadio vicino a San Siro non dovrà necessariamente ripassare dall'aula, quindi dice, voi avete già detto che si può fare più o meno, quindi noi ripartiamo da lì, ma i partiti dicono, no, fermi, adesso eravamo arrivati ad un altro punto, adesso non torniamo indietro ancora, ma anche Milan sembrerebbe che sia di questa idea di ricostruire appunto lo stadio di fianco a San Siro. Perché dico sembrerebbe? Perché nello stesso giorno, perché poi sotto gli articoli ci sono data, pubblicazione e ora, quindi il 15 settembre alle 14.51, quindi nel pomeriggio, Corriere della Sera scrive Stadio Milan-Inter, la frenata del Milan sul Meazza-Bis, cioè su questa cosa di costruire lo stadio di fianco a quello attuale. Scaroni dice, cioè quello che parla per conto del Milan, dice, priorità a San Donato, quindi si ritorna ancora con l'idea di fare lo stadio del Milan a San Donato, cioè di fianco a Chiaravalle, e quindi ovviamente chiameremo il comitato di San Donato a venire qui in trasmissione per raccontarci come l'hanno presa questa cosa, perché siamo finalmente forse liberati del fatto di, tra parentesi, San Donato, che andrebbe appunto ad impattare sulla Bazzini di Chiaravalle, che sta facendo, anche grazie al Comune, anche grazie soprattutto ai municipi, più che al Comune, sta facendo tutto l'iter per far riconoscere Chiaravalle come patrimonio dell'umanità, dell'UNESCO. Quindi, ci andiamo a buttare uno stadio a 20 metri nel patrimonio dell'UNESCO? Andiamo a capire. Sta di fatto che, come vi dicevo appunto, quindi leggetevi un po' gli articoli sia su Repubblica che su Corriere della Sera, siamo praticamente ritornati al punto di partenza, con in più però una cosa, in questi anni ci siamo tirati su davvero davvero tantissime storie, ci siamo raccontati di tutto, e soprattutto che bella figuraccia che facciamo. Mamma sei, mamma sei, ma accusa, vai con le mani, mamma sei, mamma accusa, con le mani, sulle mani, così, e questo pezzo, vabbè ragazzi, vabbè è un campione, cioè Michael Jackson, comunque, 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 questa invece era Rihanna, alle 7.42 minuti, continuiamo con la musica, ma continuiamo anche con le notizie, perché leggiamo da Repubblica Milano, un articolo, anzi un'intervista interessante, l'assessore alla cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, l'assessore Tommaso Sacchi, appunto, dice Repubblica, spettacoli e biblioteche, la nostra cultura è nei quartieri, questa parola che adesso si usa tantissimo, l'intervista all'assessore chiude appunto la serie di interventi sul tema della cultura in città, Milano ricca i talenti, e serve un metodo per farle fiorire, l'intervista che appunto vi consiglio di andare a leggere, dalle colonne di Repubblica, pubblicata online, mi fanno ridere questa cosa, adesso controllò questa cosa, pubblicata online ieri alle 5 del mattino, adesso va bene tutto, ma chi è che alle 5 del mattino, ti aspetta a leggere un articolo con l'intervista all'assessore della cultura, poi dopo invece alle 3 del pomeriggio pubblichiamo Gattini e Canini, comunque va bene, fa niente, andiamo avanti, la domanda interessante è questa, che mi è piaciuta poi la risposta in realtà, ovviamente, quello dell'offerta culturale che non arriva in periferia è un altro tasto dolente, chiede il giornalista, e sentite il volo pindarico per non dire la parola periferia dell'assessore alla cultura nella risposta, Milano è viva nei quartieri, è una delle risposte più concrete che abbiamo dato, è un bando pubblico, appunto Milano è viva nei quartieri, a sostegno dell'attività di spettacolo dal vivo, teatro, musica, danza, circo contemporaneo, contemporaneo nei quartieri più lontani dal centro, un progetto aperto a tutti, dalle micro alle grandi istituzioni, porta festival, musica, teatro, performance in moltissime zone, oltre la circovallazione, con spettacoli gratuiti o con prezzi calmirati, in due anni abbiamo speso due milioni e mezzo di euro, per questo bando Milano è viva nei quartieri, assessore, lei è l'assessore della cultura, quindi sa benissimo che la parola periferia non è una parolaccia, si può dire, cioè non c'è problema, si può dire benissimo, non è una bestemmia, non è bestemmiare a Dio, a tutti gli altri, no, è una parola normalissima che si può usare tranquillamente, perché continuate a fare sti voli pindarici e chiamarli quartieri, periferia non è una parolaccia, vado a leggervi adesso la definizione di periferia, periferia, la zona marginale di un'area geograficamente o topograficamente determinata, con particolare riferimento a un agglomerato urbano, in questo caso poi abbiamo anche altre definizioni, zona marginale vuol dire che sta ai margini, cioè al bordo, non è che vuol dire che è un posto di cui non si può nominare l'esistenza, cioè quindi è vero, anzi la definizione corretta sarebbe, credo nella mia umile posizione di speaker radiofonico, nonché di giornalista, nonché direttore di Goodmano in Milano, scusate mi ricordate quello che facevano le persone del tempo che diceva nella mia due lauree, ecco sembrava lui, ma in questo momento comunque diciamo che la definizione sarebbe semplicemente dire, le nostre periferie composte da molti quartieri, anzi aggiungo il carico, composte da molti borghi e quartieri, perché ci sono anche i borghi che fanno la nostra periferia, quindi caro assessore, cara giunta soprattutto, caro sindaco Sala, piantiamola di non dire la parola periferia, diciamola, la periferia è periferica, anzi, ultima definizione che ho trovato, molto interessante, dice anche, è lo strato superficiale di un corpo rispetto al suo centro, e fa un esempio la definizione, il sangue affluisce dal cuore alla periferia, effettivamente, pensate voi di vivere senza polpastrelli o dita dei piedi, ce la fareste? Vedete quanto è importante la periferia? Il sangue affluisce la periferia, ok? Quindi smettiamola di continuare a scappare da questo termine, non è una parolaccia, diciamolo, Grattosoglio è un quartiere della periferia di Milano, Afori è un borgo della periferia di Milano, Quarto Cagnino, tanti tanti altri, Ponte L'Ambro e via via così. In Mattia Bazzarra per un'ora d'amore, sì, qui è un'ora, sono due ore d'amore invece, quella che facciamo tutte le mattine insieme a voi, dalle sette alle nove, fra poco volge al termine la prima ora, quindi poi giornale radio, ma dopo saremo qui con i nostri ospiti, parliamo di tutte le notizie che appunto girano sulla nostra città, e noi andiamo a intercettare, e magari ne approfondiamo alcune. Tutta la bella musica la trovate qui su Cristal Radio, se vi siete persi qualcosa nei giorni scorsi, o della puntata di questa mattina, oppure adesso magari dovete uscire per forza, adesso devo entrare in ufficio, non posso seguire quello che succederà dopo, non c'è nessunissimo problema, avete mille milioni di modi per riuscire a ripescarci. Il podcast sia su Spotify che su Apple Music, il nostro sito goodmorning.milano.it, la diretta domani mattina, comunque vi raccontiamo sempre quello che succede anche il giorno prima, quindi sempre Cristal Radio, che potete ascoltare sugli FM 96.2, con il Dan Plus in tutta Lombardia, sull'applicazione per iOS Android, e anche sul sito internet, insomma, io proprio lo consiglio sempre, vi ricordo sempre questo, voi arrivate in ufficio, aprite il sito di Cristal Radio, fate finta che c'è una call, mettete le cuffie, iconizzate il sito sotto, andate avanti a far finta di lavorare tutta la mattina, ascoltandovi la bella musica di Cristal Radio. Prima le notizie con me, e poi dopo c'è anche Ambrogio Curti, che vi racconta tutte le sue storie, quindi per rimettervi lì, fate finito, scusi capo, sto facendo una call, non mi disturbi, invece mi sta ascoltando bellamente Cristal Radio, io ve lo consiglio sempre, comunque sappiate, non so quanto Asso Lombarda, Conf, Commercio e compagnia cantante, sarebbe contenti di questo consiglio, vabbè, non è che posso sempre dare consigli utili, siete voi, siete voi, io sono da vostra parte, da chi ci ascolta, quindi devo far così, ma se invece siete persone seri nel mondo del lavoro, non ascoltate i consigli che vi do io, ma ascoltate i consigli che vi dà Filippo Poletti, sì perché tutte le mattine, tutti i lunedì mattina, è qui con noi a darci il buon lavoro, lunedì scorso da qui con noi, in carne e ossa, qui in studio, questa mattina invece come sempre ci manda il suo contributo, credo da quel di San Donato, così dal background che ho visto sul suo video, con la nostra immancabile tazza di Milano News, e quindi a te Filippo, buon lavoro! Buon lavoro a tutti, edizione speciale, sì, siamo alla quarantesima puntata di Buon Lavoro, e come sempre tre parole chiave, la prima parola chiave della settimana è sogni, non smettete mai, mai, mai di sognare, è bellissimo, invito fatto da chi? da Roberto Bolle, in occasione della nuova edizione di Ballo in Bianco, in piazza del Duomo a Milano. La Stella ha detto, la danza è una grande maestra di vita, di impegno, di rispetto, di educazione, ha sottolineato, e dunque, continuiamo a sognare, tutti, tutti, tutti. La seconda parola chiave della settimana è smart working, ne abbiamo parlato diverse volte, ecco che l'amministratore delegato di Cisco Italia, Gian Matteo Manghi, ha detto, sullo smart working non si torna indietro, perché? Perché dà tantissimi vantaggi, in termini di costi aziendali, in termini di flessibilità delle persone, in termini di equilibrio fra vita personale, vita professionale, e in termini di impatto ambientale. Importante, ha aggiunto, il manager è trovare dei momenti per incontrarsi anche dal vivo, perché i rapporti di fiducia e il senso di appartenenza si costruiscono anche guardandosi negli occhi e incontrandosi di persona. Per questo, ha aggiunto, stiamo creando quelli che chiamiamo non uffici, ma spazi di collaborazione. E dunque, benvenga allo smart working, ne abbiamo parlato tante volte a buon lavoro, con occasioni di confronto anche dal vivo. La terza e ultima parola chiave della settimana è libri, un libro per ogni dipendente, un po' come accadeva alla Pirelli, alla Falc, Sì, 1300 libri per i quasi 1400 dipendenti, e la biblioteca della Same di Treviglio, l'azienda di trattori, nella Bergamasca. La biblioteca sarà aperta due volte alla settimana, in pausa pranzo, appunto, per una pausa pranzo speciale. In prestito, best seller, classici, romanzi, gialli, libri di poesia, periodici, e, appunto, anche pubblicazioni dedicate alla meccanizzazione agricola. Bellissima iniziativa da replicare in altre aziende. E dunque, buon lavoro a tutti, con le tre parole chiave della settimana. It is this love, White Snakes, questo è il Cristalistri delle otto, ben ritrovati e bentornati qui su Good Morning Milano, Cristal Radio, vi avevo letto, leggiamo un po' gli articoli, e poi approfondiamo. In ordine di tempo, una delle ultime notizie lette, risale al 18 agosto, che diceva questa cosa qua. A Milano ci sono le carceri più affollate d'Italia, al primo posto c'è San Vittore, ma vi assicuro, e poi adesso approfondiremo il tema, che ho trovato articoli che già nel 2022 dicevano la stessa identica cosa. Quindi, insomma, la situazione che è avanti da tanto tempo e che voglio, appunto, affrontare con chi? Con Federica Valcauda, che è collegata con noi. Buongiorno, Federica. Buongiorno, Fabio. Grazie per l'invito. Allora, grazie a te, perché, appunto, Federica Valcauda, Europa Radicale, esponenti di Europa Radicale, abbiamo già affrontato altre volte questo tema insieme. Appena ho letto l'articolo, ho detto, beh, non posso non sentire, Federica, per capire, soprattutto perché poi, nell'andare a ricercare, appunto, altre notizie così, ho trovato anche articoli di un anno fa che dicono praticamente le stesse cose. Anche già solo a febbraio, San Vittore, il carcere più sovraffollato d'Italia, viaggio tra le parti chiusi e volontari che non si arrendono, ad esempio, quindi c'è anche un lato positivo, per fortuna, di questi volontari che fanno tanto lavoro nelle carceri. Ma si può andare ancora più indietro, andare a febbraio 2023, quando anche il sindaco Sala diceva a condizioni di San Vittore indecenti e chiedeva all'allora Ministro Nordio appunto che risca le intenzioni che si hanno sul mondo appunto delle carceri e soprattutto di San Vittore. Allora Federica, chiedo a te, questa cosa la sappiamo ormai, è un po' come la storia del cambiamento climatico, la sappiamo ma non si fa nulla. Cioè, com'è che sappiamo, abbiamo ormai palese questa cosa del fatto che le carceri, ovunque da quanto ho capito, sono in sovraffollamento, in particolare San Vittore è uno di quelli messi peggio, ma come mai non si fa nulla? Cosa succede? Tu hai fatto un attimo un resoconto storico che va al 2023, io ricordo che entrai per la prima volta a San Vittore nel gennaio 2020, quindi qualche mese prima che scoppiasse la pandemia del coronavirus e già lì, già anche nel 2020, San Vittore era uno delle carceri più sovraffollate d'Italia perché San Vittore ha determinate caratteristiche, no? È una casa circondariale, quindi, diciamo, è il primo carcere in cui le persone vanno quando commettono un reato, in particolare a Milano, no? E c'è un tasso molto elevato di stranieri perché molto spesso, e qua la questione si lega anche ai CPR, al fenomeno migratorio, eccetera, eccetera, no? Molto spesso quando gli stranieri commettono piccoli o medi reati, la soluzione è buttiamoli in carcere e per lo più sono dentro per reati regati allo spaccio, ad esempio, tu come ben sai, io sono antiproibizionista e credo che modificare la legge sulle droghe sia uno dei primi passi per far sì che almeno le carceri non siano sovrappollate. E quindi San Vittore ha queste caratteristiche che lo rendono appunto uno dei primi carceri di approdo e difficilmente si riescono a fare dei progetti continuativi ed esiste un tasso di recidiva molto alto perché è quando tu fai entrare delle persone all'interno di un luogo chiuso dove c'è qualcuno che ha commesso dei reati, c'è qualcuno che invece anche è all'interno delle nostre carceri ma non ha ancora avuto il primo processo potenzialmente inducente. Ok, sì, giusto. Più una prova contraria, no? Esatto, e su questo il nostro paese risarcisce ogni anno migliaia e migliaia di persone a livello economico per gli errori giudiziari che si fanno. Quindi questo è un problema di lunghissima data che si nasconde sempre sotto il tappeto perché parliamoci chiaro Fabio dei carcerati non gliene frega niente a nessuno. Ecco, più chiaro di così non potevi dirlo Federica credo. Non c'è un altro motivo comunque noi come formamentis anche forse per il nostro passato fascista che dovrebbe in realtà farci modificare quello che pensiamo in realtà siamo assolutamente manettari ecco per paura per paura che possa succedere qualcosa molti si lamentano spesso che in realtà siamo un paese troppo garantista che in realtà prima di andare in galera ne passa molti dicono così poi invece troviamo le galerie piene com'è possibile? Allora io può sembrare forse un discorso radicale vuoi dire la fascista al contrario mettiamo De Andreiano ecco che dipende un po' chi sei in questo paese purtroppo questa è una verità che abbiamo visto anche con i grandi processi dove c'erano politici collusi o che avevano insomma perpetrato modalità di corruzione insomma un po' dipende chi sei in questo paese e quindi e questo lo fa capire anche appunto la popolazione poi che c'è all'interno ad esempio in questo caso tu dicevi anche di San Vittore è palese un po' anche da quello forse certo perché se sei un migrante che arriva con il barcone a Lampedusa hai una probabilità molto più elevata rispetto a una persona come me o una persona come te di finire in carcere magari anche senza aver avuto il primo grado di giudizio in qualche modo sei già visto come socialmente pericoloso ok Federica allora questo qui è il quadro diciamo sicuramente questo quadro non c'è solo una cosa interessante Federica di tutte le chiacchierate che siamo fatti in questi anni che poi non è che tu ti limiti a fare la fotografia e a lamentarti di quello che è ma sicuramente avrete anche delle proposte quindi ti chiedo subito dopo la prossima canzone di dirci un po' quale potrebbero essere però magari alcune delle soluzioni che si possono adottare per risolvere o almeno mitigare questo problema va bene? va bene ok allora andiamo con un po' di musica e poi ancora qui con Federica Valcato parliamo ancora di carcere i gemali diversi con Mary alle 8 e 22 minuti siamo ancora qui collegati con Federica Valcauda Europa Radicale stiamo parlando di carceri abbiamo fatto appunto un escursus abbiamo fatto una foto dello scenario attuale come si potrebbe fare per non ti sto chiedendo la soluzione a tutti i mari del mondo ma come si potrebbe fare per mitigare per risolvere almeno in parte questo problema oppure se hai una soluzione totale noi la prendiamo volentieri Federica ma allora a me piacciono tantissimo le riforme però a me ci vorrebbero un sacco di minuti diciamo che a livello pragmatico sarebbe quello che dicevo prima importante cambiare immediatamente la legge sulle droghe il 30% delle persone che ci sono nelle carceri sono dentro per reati droga correlati e il 70% di questi per reati legati in particolare alla cannabis ora anche il presidente Donald Trump ha detto che è favorevole a una depenalizzazione della cannabis io non capisco perché noi dobbiamo tenere in carcere delle persone che hanno commesso ad oggi un reato ma un reato senza vittima dove insomma come in altri paesi europei si può espiare in altro modo e non con il carcere così toglieremo almeno il problema del sovraffollamento poi ci vorrebbe un'attenzione per l'ambiente carcerario quando noi entriamo in carcere vediamo che l'ambiente non è adeguato a ciò che dice l'articolo 27 della Costituzione ovvero la finalità della rieducazione hai commesso un reato ti rieduchi e poi puoi rientrare in società l'ambiente carcerario è importante così come un rapporto con l'esterno ad esempio creare un rapporto continuativo con quelle che sono le aziende del territorio dove c'è il carcere per far sì che i detenuti possano entrare uscire imparare un mestiere in modo tale che quando escono possano avere una sorta di sicurezza per essere rimessi in società perché molto spesso poi capita che una persona esce dal carcere non sa dove andare non sa che lavoro fare e quindi ti trovi Federica cosa oltretutto mi sembra che non è che tu ti stai inventando qualcosa che in alcuni carceri in realtà poi avvengono quindi in realtà si può fare si può fare penso a opere ad esempio che ospita i laboratori teatrali dell'associazione Nessuno Tocchicaino dove si fa un altro tipo di lavoro ovviamente quindi i progetti che si possono fare sono molti ovvio che lo Stato invece di dire spendiamo milioni e milioni di euro per costruire nuove carceri dovrebbe dire spendiamo questi soldi per fare dei progetti per rendere l'ambiente carcerario più efficiente su questo con Europa Radicale è da fine luglio inizio agosto che stiamo facendo un appello alla RAI per fare uno speciale carcere in prima serata perché di carcere non se ne parla noi riteniamo che la televisione pubblica per offrire realmente un servizio pubblico debba parlare in prima serata di questo argomento invitando chi in carcere ci entra dai volontari agli psicologi alle associazioni che appunto entrano e sanno com'è la situazione ai garanti territoriali quindi ai garanti delle persone private della libertà personale sia territoriali che regionali quindi questo è l'appello che volendo si può anche firmare sul sito europa radicale punto EU e è un primo passo anche per capire poi come andare verso una concreta riforma perché una volta che il problema si conosce del dettaglio si sa anche come affrontarlo chiaro chiaro Milano prima hai detto appunto Milano è la stessa città dove c'è da una parte il carcere di San Vittorio che è uno dei più affollati con tutti i problemi che si porta dietro dall'altra Bollate che è uno invece delle eccellenze carcerarie in Italia ma c'è anche ad esempio il risultato penitenziario minorile del Beccaria dove ultimamente insomma sembra che regalino vacanze premio perché insomma ogni trappertutto c'è qualcuno che se ne va fuori anche la settimana scorsa altri tre evasi stamattina notizia che uno poi l'hanno ritrovato che fa capire anche a casa sua l'hanno ritrovato quindi fa capire anche l'idea che c'è di chi poi evade da un risultato penitenziario come quello del Beccaria insomma anche il Beccaria è un bel problemone mi sembra il Beccaria è un gran problemone ma è un problemone che parte da un errore del governo in questo caso il decreto Caivano promulgato un anno fa se non sbaglio è un decreto totalmente folle proprio a livello sociale perché sta facendo entrare all'interno delle carceri di minorili una quantità di ragazzi che non avrebbero bisogno delle carceri cioè è come il reato senza vittima di cui ti parlavo prima anche perché il Beccaria ad esempio dove c'erano però poche decine di detenuti fino a qualche anno fa infatti noi abbiamo avuto spesso 20 di associazioni che operano all'interno del Beccaria e raccontavano una situazione abbastanza tranquilla diciamo a letto poi devo scoprire certe situazioni nate con invece andiamo avanti in questo momento la situazione è degenerata proprio a causa di questo decreto perché si è creata una situazione di sovraffollamento molto diciamo grave rispetto agli standard precedenti e quindi se tu fai entrare all'interno di un luogo chiuso nel carcere appunto un minore la gestione diventa sempre più complessa anche perché anche al Beccaria il tasso di stranieri è elevato e questo implica purtroppo che molte volte noi non ci rendiamo conto che l'essere straniero nel nostro paese significa che se non ti mettono a disposizione dei mediatori culturali dei mediatori linguistici cioè magari queste persone non sanno neanche di cosa si parla di cosa sono imputate cioè diventa diventa complesso diventa complesso anche voler avere una vita migliore se non sai cosa succede intorno a te ecco bene allora Federica ricordaci questa interessante che dicevi prima la petizione che state facendo appunto perché è stata facendo una bella richiesta alla televisione di Stato alla televisione pubblica scusate la televisione pubblica che è interessante perché ci dimentichiamo che appunto la tv pubblica dovrebbe fare un servizio pubblico poi ci dà anche Sanremo e siamo ben felici io sono felicissimo di andare ogni anno a Sanremo raccontarlo però il servizio pubblico è anche altro il servizio pubblico sì è anche altro e io sono una nostalgica delle tribune politiche che non si fanno più adesso si fanno i talk show se sta politica fare uno show della politica a me sembra una cosa abbastanza disdicevole quindi noi appunto abbiamo fatto un appello alla RAI per far sì che faccia uno speciale carcere in prima serata la scorsa settimana abbiamo fatto un presidio a Roma davanti davanti alla RAI in Viale Mazzini ci hanno detto che la nostra richiesta è al vaglio della direzione in questa settimana se non riceveremo risposta manderemo un'altra PEC e momentaneamente ci sostituiremo al servizio pubblico dai nostri canali Instagram invitando le persone che riteniamo abbiano le competenze per parlare di carcere e trovare una soluzione perché poi è importante parlarne cioè io sono un po' stanca di sentire le retoriche manettare del buttiamo la chiave eccetera eccetera che non sono solo retoriche che stanno al governo ma stanno proprio nella popolazione ebbè poi diventano parte di noi dico sempre poi chi ha il governo chi fa politica non siamo nient'altro che noi che andiamo là quindi cioè ci portiamo le nostre cose quindi insomma lì poi va bene sta a noi decidere chi di noi vorremmo rappresentarci Federica grazie mille davvero per il tuo intervento grazie a te Fabio grazie per il vostro lavoro ci rivediamo ci sentiamo sicuramente come sempre buona giornata e buon lavoro allora ciao buon lavoro ciao grazie mille Federica Valcaudo andiamo avanti con la musica qui su Cristal Radio Good Morning Milano poi in due due secondi di pubblicità e poi torniamo qua siamo sempre qua yes sir I can't boogie così dice Baccarat alle 8.40 qui su Cristal Radio Good Morning Milano poco fa con noi Federica Valcauda di Europa Radicale per parlare di carceri tema che affronteremo anche nelle prossime settimane perché sto invitando un po' di persone perché sapete che in realtà Good Morning Milano abbiamo sempre parlato tantissimo di carceri abbiamo avuto ad esempio anche l'associazione che fa teatro all'interno del Beccaria qualche anno fa qui ospiti con noi abbiamo avuto tante tante associazioni abbiamo avuto la nostra ex producer Viola lei faceva volontariato in un cacero ci ha portato i suoi racconti le sue storie qui in trasmissione quindi insomma cerchiamo sempre di parlarne perché sappiamo come è veramente uno di quei luoghi di cui nessuno di noi vuole sapere nell'esistenza così che perché ci fa paura quindi sappiamo che insomma se non ne parliamo non ci finiremo mai un po' l'idea recondita è quella nelle nostre coscienze quando invece poi non è così e quindi bisogna parlarne perché non si sa mai quello che può succedere nella propria vita ma soprattutto insomma se vogliamo essere una società umana e dove gli altri esseri umani siano comunque presi in considerazione da noi stessi anche per cercare di creare una società migliore anche i carcerati hanno bisogno e anche coloro che finiscono appunto nelle carceri hanno dignità di insomma essere considerati ancora esseri umani e quindi di vivere in luoghi consoni anche al motivo cioè all'obiettivo che poi si pone il carcere quello punto della rieducazione in città invece andiamo un attimino a dare un'occhiata a quello che sta succedendo in città ATM comunicazione degli ultimi minuti tram 33 non fa servizio tra via Farini Ugo Bassi e Piazzale Lagosta c'è un incidente tra auto quindi fatevela a piedi non so cosa dirvi prendete un'altra linea non lo so cercate la soluzione comunque bus 45 invece in direzione Lambrate M2 devia e salta le fermate da via Camaldoli via Riche all'ospedale Monzino ok perché sono in corso dei lavori stradali in via a uccelli di Nemi e invece le linee 1 12 e 40 sulla ruota di Milano sembra che sono dei numeri dell'otto dal 16 settembre cambieranno servizio quindi da oggi cambiano servizio sul sito TM c'è la mappa dove vi dà tutte le deviazioni vi dice anche le alternative di viaggio e per lo stesso motivo sempre dal 16 dicembre al 5 di dicembre sono sospese le due corse della mattina credo le prime due non c'è scritto le due corse della mattina credo le prime due comunque della linea 19 in partenza da piazzale Cacciatori delle Alpi quindi se dovete partire sapete che di solito prendete il primo o secondo tram datevi una sveglia perché andate dopo non lo so anche lì trovatevi un'alternativa no c'è il sito che vi dà l'alternativa poi le linea 10 cambia servizio anch'essa dal 16 al 27 settembre quindi la linea 10 anche la N25 la N26 invece e sono contento che danno anche questi aggiornamenti benissimo il bus il 325 che così a memoria vi dico secondo me quello che va verso Rozzano però qui ho osato troppo viaggia con qualche minuto di ritardo per un incidente stradale grazie grazie ATM che scrivi questa cosa posso dire complimenti perché non si sa mai niente invece per fortuna c'è scritto qualcosa questo è appunto il momento ATM che ci dà le indicazioni noi comunque rimaniamo qui sul sito a controllare se ci sono aggiornamenti nel frattempo un po' di musica così che insomma la mattinata possa continuare meglio e sempre meglio anzi sempre qui con Good Morning in Milano a Cristal Radio 96.2 FM da Plus l'applicazione insomma sapete che c'è tutto quanto ah c'è anche il numero di Whatsapp 331 7853 555 Grace Kelly con Mica continuiamo a parlare di ATM perché notizia del Corriere della Sera dice Milano il piano di ATM per frenare la fuga di autisti case a prezzi accessibili stipendi più alti e nuovi turni il posto fisso non basta più beh non male che ti è che ne siete accorti questo però è una buona notizia per tutti non solo per chi vuole andare a lavorare in ATM ma perché soprattutto potrebbe scongiurare gli ennesimi e ripetuti e tradizionali scioperi di ATM a Milano l'azienda di trasporto milanesi incontra i sindacati sono arrivati a capire quindi dal tavolo che mancano 350 addetti e siamo pronti a discutere su tutto il salario medio di 1500 euro è considerato troppo basso per poter vivere a Milano e quindi i guidatori non si trovano devo dire che effettivamente 1500 euro per guidare tram gli autos a Milano è un po' bassino come stipendio adesso so che mi arriveranno i messaggi io faccio lo stagio 600 euro c'è gente che fa lo stagio gratis lo dico dal di là del vetro quindi lo so lo so lo so benissimo però non avete neanche in mano la responsabilità magari nel vostro bellissimo lavoro che fate ci mancherebbe in cui magari non vi pagano tantissimo però magari non avete responsabilità di 50 60 cristiani dietro sul vostro tram o sul vostro autobus e tutto quello che è anche ricordate la pubblicità per l'ogorio della vita moderna ci vuole amaro quello lì ecco qui altro che logorio cioè i tram non c'è un tram usciva un dato poco più dall'estate mi ricordo che mi hanno letto dove praticamente non esiste una linea di tram che non abbia problemi di ritardi dovuti a macchine in via di so macchine in sosta sbagliata ingorghi gente che si ferma in seconda fila per far scendere il bambino per andare a prendere la briochina che poi dopo mi viene da 400 kg il bambino non mi resta più nella macchina quindi do comprare il SUV per portarlo in giro quindi c'è nel senso è un problema capite e non deve essere il lavoro più semplice al mondo a prescindere dal fatto dei tecnicismi per guidare un tram o un autobus ok devi imparare fare la patente poi credo che anch'io sarei capace di guidare un tram ma non è quello è guidarlo a Milano è guidarlo nel delirio di una città come Milano insomma credo davvero che sia una buona buona buonissima anzi notizia questa che ci arriva quest'oggi dalle colonne del Corriere della Sera perché se ATM e i sindacati riescono finalmente a trovare una quadra intorno all'annosissimo problema del del trasporto pubblico a Milano ma soprattutto del carovita e di quello che rende difficile poi trovare personale per un'azienda così importante e strategica come Milano insomma diciamo che sarei molto molto contento di leggere poi che avremo meno sciopri di base quindi insomma è interessante leggetevi l'articolo su Corriere della Sera Milano spiegate tutto bene si vede un sereno quindi si vede un ciel sereno alla fine del tunnel speriamo perché insomma sarebbe davvero davvero interessante altra cosa molto bella che c'è stato invece questo weekend che volevo ricordarvi volevo raccontarvi è stata alla BAM la biblioteca degli alberi Milano per intenderci sotto all'unicredit arena se è sotto sì il tabu l'arena lì quella zona lì il grande prato che va verso Melchiore Gioia c'è stato Mozart sotto le stelle oltre 7000 persone alla biblioteca degli alberi per il concerto che segna appunto la fine dell'estate insomma niente male anche lì va a capire come qualsiasi cosa ormai si faccia a Milano se è fatta bene funziona ed è stata una bella estate qua della BAM prima mi porto un punto di cultura cultura nelle periferie e tutto BAM sicuramente non è un luogo periferico della città però è interessante vedere come la città risponde e la città va sicuramente sarebbe bello e lo ripeto per la prima volta BAM bellissimo la nostra periferia è piena di parchi parco di trenno bosco in città parco nord parco della Vettabbia tantissimi parchi mi vengono in mente e sicuramente in questo momento ne ho dimenticato qualcuno la montagnetta di San Siro non dimentichiamola ecco sarebbe bello magari pensare che il prossimo anno una cosa del genere non venga fatta necessariamente dove tanto comunque il turismo ci sarebbe comunque dove tanto comunque noi milanesi andremo comunque a fare la passeggiata ma costringerci a prendere attraversare la città andare al parco della Vettabbia ad esempio o andare appunto sulla montagnetta di San Siro e scoprire la bellezza di luoghi lontani magari da noi lontani anche a volte semplicemente lontani dalla concezione che abbiamo magari abitiamo vicino alla montagnetta vicino al parco di trenno ma per andare a fare qualcosa di bello prendiamo e andiamo al parco Sempione andiamo alla biblioteca degli alberi in Porta Nuova no invece magari se mi fate perché il parco di trenno lo vediamo solo per portarci il cane a fare i bisognini ecco non è solo quello può essere tanto altro e portare la cultura in questo caso nelle periferie potrebbe aiutare a vivere davvero al meglio la nostra città la consapevolezza dei luoghi affascinanti che ci sono nella nostra città ci può veramente aiutare a capire meglio meglio dove viviamo e come spesso diciamo anche magari poi prendersene cura perché insomma se io mi innamoro del luogo in cui abito magari poi una carta la carta non la butto per terra magari quando il mio cane fa i bisognini magari finalmente lo tiro su quando magari esco non sto a buttare le robe lì ma anche semplicemente prendo la bici del bike sharing o il monopattino sharing non lo sbatto lì sul marciapiede buttato così ma magari lo posteggio bene sapendo che insomma lì c'è vita lì c'è gente che passa ci sono i miei vicini di casa che vivono il quartiere insieme a me qui sì che allora si parla di quartieri qui sì che si parla di borghi quartieri di vita sociale all'interno dei nostri quartieri questo è quanto per questa mattina non ho nient'altro da poter dire che è solo una cosa sigla 8 e 54 minuti sempre qui su Cristian Radio questo è Good Morning Milano e oggi finisce qui la puntata del 16 settembre domani mattina siamo sempre qui dalle 7 alle 9 per raccontarvi un po' con le sue in città per avere ospiti che ci verranno a trovare domani viene Mario Donadio se non sbaglio quindi insomma domani ci divertiamo con Marione a parlare di cose divertenti di come si fa a costruire una città appunto dal basso con il volontariato con le associazioni con la voglia di fare cittadinanza attiva tutto questo domani mattina qui su Cristian Radio Good Morning Milano e dopo di noi invece chi c'è lo sapete Ambrogio Curti con senti questa chissà quale ci farà sentire beh vi do uno spoiler non ce ne fa sentire una sola ce ne fa sentire tante e ci racconta tutte le storie che ci sono dietro a queste canzoni dietro agli artisti insomma leggere la musica tra le note tra le righe del pentagramma vi ricordo comunque che se vi siete persi qualcosa potete ritrovare tutto quello che abbiamo fatto questa mattina e anche le mattine scorse non ancora quello che faremo le mattine prossime ma ci stiamo lavorando anche su quello chissà che magari l'intelligenza artificiale ci aiuti anche a farvi sentire prima che facciamo quello che vogliamo fare no non credo comunque goodmorning.milano.it poi c'è spotify e apple podcast sempre con il nostro podcast insomma tutto questo e poi ovviamente tutte le mattine crystal radio le voci che avete sentito questa mattina sono quelle di fabio ranfe federica valcauda coadiuvate gestite ben instradate alla regia da ginevra e beatrice quindi grazie a tutti quanti ci sentiamo sempre domani qui alle 7 in diretta su crystal radio ciao